ciao ragazzi oggi siamo a morbegno cosa facciamo sindaco facciamo il festival ride il giro del sabato del valtellina e bike festival 40 chilometri circa con mille e quattro di dislivello un percorso dato tutti però non vi ho detto quando sarà il valtellina e bike festival 19 20 settembre 2020 andiamo 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 stiamo salendo da morbegno che è il punto di partenza del festival stiamo salendo per questa bellissima mulattiera saliamo verso dazio 4 5 chilometri di salita come vedi abbastanza impegnativa diciamo livello medio medio acqua la mappa delle fontane diventa la mappa delle birre mappa delle fontane ogni tre fontane una piena di birra devi trovarle ragazzi ci siamo qui inizia il bosco dei bambini uno dei tre che abbiamo scelto per il beff sarà un mangia i bevi dentro e fuori il bosco molto bello tanto muschio e soprattutto facile e divertente come vedi le linee chiudo gli occhi chiudere gli occhi andiamo ancora su un po di salita di quella giusta con le bike meno male c'è qualcuno che sistema qua meno male grazie qui tutto è di sasso la galleria su due ruote dove stiamo andando adesso adesso andiamo in agriturismo agriturismo ci sono anche i dain a salutarci ora com'è ragazzi questi tre innato da qua che bel trasferimentino ecco qua siamo a san bernardo epic spot del beff siamo su una bellissima vista panoramica sul centro di morbegno e la si vedono le vallate della valgerola che saranno invece luogo dei tre da enduro altro paesello non c'è la fontana fontana c'è in sto paese ecco qua come si dice una lavata e una cigara come mai di prada ma sai che bicicletta sto usando la tua assessora sul passo a destra buchi per la polenta l'avventura continua siamo a san giovanni c'è una bellissima vista ancora sul fondo valle e qui speriamo proprio ci sia la polenta quando ci sarà il beff ma chi lo sa scendiamo va scendiamo a Cerci come wild come wild ultimo tratto di discesa un single trail veramente divertente da fare per chi può a cannone mamma che spettacolo questo bello bellissimo capisci che questo posto è avanti dieci anni portabici e anche carica batterie il primo giorno è andato a domani